Andrew Pollins, il tuo è un percorso vasto ed eterogeneo. Da manager production a regista, ad assistente casting, qual è l'esperienza più gratificante? Prima di cominciare a lavorare per questo film, ho avuto altre esperienze che sono state di grande valore per la mia formazione. E direi che la più gratificante è stata imparare a scrivere, ho anche diretto alcuni film e anche questo mi è piaciuto molto tra le esperienze. Ma quella che devo dire ha avuto più valore per me è stata assistente al casting per i film e per la televisione. In quel momento ho avuto la fortuna di incontrare attori e ho scoperto le diverse strategie di creazione e di assemblaggio. E in questo film hai tre donne, attrici, che in realtà interpretano lo stesso personaggio. E questo è stato veramente un challenge. Ed è stato il lavoro magari più duro che io ho dovuto affrontare durante la mia esperienza. Bene, questa è un'opera tutta tua, scritta e diretta da te. Com'è nata l'idea di Backward Fall? Quando? In quale momento? Due anni prima di aver concluso, di aver terminato di girare il film, cercavo una storia breve da raccontare. Quando ho trovato l'originale della storia del film, ho sentito una connessione immediata con la storia del film. Ho sentito una relazione personale con il materiale del film. E ho sentito una relazione quasi a livello personale con il materiale del film. Grazie a questa storia c'erano tante opportunità per me di sperimentare le mie conoscenze. Uno dei protagonisti principali vede il mondo in una maniera diversa rispetto agli altri personaggi. Quindi c'è una prospettiva, diciamo, duale dei caratteri. Quando ho visto l'opportunità di lavorare con il materiale del film, ho sentito che avrei avuto l'opportunità di lavorare con un materiale così complesso. È stata un'esperienza veramente soddisfacente. Bene. Noi tra poco, dopo la serata di apertura, vedremo il tuo cortometraggio. Cosa ci puoi anticipare? Beh, spero che gli spettatori... Spero che senza pensarci troppo gli spettatori assisteranno a tutta la durata del film. Non so, questo sembra veramente... Penso che questo sembra vero. Io solo voglio che le persone verranno risucchiate dalla mia storia. E passeranno dieci minuti a quasi sincronizzarsi e amalgamarsi con il film. E se riescono a stare in quel mondo senza essere distratti, allora avrò fatto un buon lavoro. e quando il film sarà terminato e loro avranno capito qualcosa della propria vita personale o delle persone che magari soffrono una condizione simile a quella che racconto nel film provano a prendere quell'esperienza del film e tirarla dentro la propria vita personale. E questo ovviamente è un'ambizione molto forte che ho, molto grande. Ma che importa? Bene, entreremo nel tuo mondo, farà parte del nostro e di sicuro ci arricchiremo. Beh, proviamo a entrare dentro il tuo mondo, a fare il nostro nostro mondo e sicuramente rinforziamo. Grazie, Andrew. Grazie, Andrew. Grazie, grazie. Grazie.